Già la seconda edizione, l'anno scorso è stato un successo sia di pubblico che di autori che hanno voluto partecipare ed essere presenti con noi per presentare i loro lavori. La seconda edizione con alcune novità, principalmente le location che non saranno più la sede del nostro circolo bensì dei locali dove fare una pericena insieme in compagnia degli autori e locali sia del centro di Porto Maurizio sia del nostro borgo storico, del nostro centro storico e un aperitivo allungato, un momento conviviale insieme alla presentazione di questi volumi sono sei autori, quindi sei romanzi, sei storie, tutte una diverse dall'altra ma con in comune l'ambientazione nei nostri paraggi, nei territori che ci sono familiari a parte qualche excursus verso la Lombardia e la Calabria ma che poi vedremo di volta in volta quindi autori che ci hanno fatto l'onore di venirci a trovare da un pochino più lontano e soprattutto la novità non sarà più a cadenza settimanale ma bensì bisettimanale varie tematiche anche molto interessanti che saranno motivo per riflessioni al di là dei misteri che saranno da dipanare e tutte le informazioni di cui le persone hanno bisogno saranno presenti sui nostri social, Facebook e Instagram e vi aspettiamo numerosi pronti sia a mangiare che a indagare Grazie mille! Grazie mille!